Prima di andare in un posto che non conoscete, fate come i fotoreporter e documentatevi su libri e riviste per creare un primo contatto con i luoghi che visiterete. Giunti sul posto, osservate le cartoline turistiche per individuare i luoghi e i soggetti caratteristici. Non limitatevi però a fotografare i soggetti classici perché otterreste risultati scontati. Con i soggetti classici siate originali e provate a dare una vostra interpretazione fotografica. Ricordate che ogni soggetto ha le sue peculiarità e può quindi essere catturato in diversi modi. Trovate punti di ripresa inconsueti, sfruttate le linee e gli effetti della luce. Avrete foto altrettanto belle ma più interessanti. Potete anche individuare soggetti insoliti per catturare lo spirito del luogo. Riprendete le strade e i vicoli e lasciatevi affascinare dai colori e dai dettagli. Andate alla scoperta del paese o della città che vi ospita per scoprirne e valorizzarne la cultura e le tradizioni. I colori dei souvenir nei negozi messicani, le curiose cianfrusaglie dei mercatini di quartiere, le vetrine dei negozi più caratteristici e persino le porte e le mura delle abitazioni sono testimoni e degni rappresentanti della vita quotidiana locale.